calignaia acqua fresca mare calmo tanto sole tanta gente splendida giornata di mare in lontananza il castello del sonnino se mi riesce ora faccio un po di zoom un gran bel posto il sonnino era uno che sicuramente ci apiva e ci apiva tanto si ha fatto il castello lì un posto così lo trovate lungo la costa labronica oppure andate in sardegna o in corsica la spiaggia incomincia ad essere bella piana giorno festivo acqua fresca mare pulito tanta gente tanto sole bel panorama per tutti quelli che restano al mare tutto il giorno il consiglio di mangiare poco o comunque far passare sempre almeno due ore e mezzo meglio tre tra il pasto e il bagno se no ci potete anche schiattare e poi vi rovinate la giornata un saluto rapido promemoria la mattina presto e sino alle 13 ora solare alias le 14 ci sono gli ultravioletti dalle 13 alle 17 ora solare ossia dalle 14 alle 18 ci sono gli infrarossi dopo le 17 ora solare ossia dopo le 18 ora legale tornano gli ultravioletti acqua bella fresca pulita sole picchia forte ci vuole la crema almeno 20 di protezione meglio 30 o più per il resto gran bella giornata di sole e di mare l'acqua non è ammarmata come era invece l'altro anno negli stessi tempi stesso periodo un saluto a tutti i poveri cristi che non stanno in una città di mare ciao ciao benvenuti in un'altra puntata di mia calignaia speciale fondale oggi salperemo direttamente dalla massicciata centrale per andare ad esplorare virtualmente insieme il centro alto della baia di calignaia il fondale della baia è tutto sassoso scende dolcemente con una pendenza molto bassa nel profondo blu poi all'improvviso i sassi e i massi si interrompono compare un enorme chiazza di sabbia qui siamo a oltre 7 o 9 metri d'acqua e si può vedere un banco di acciuchine castagnole saraghini occhiate e anche un gruppo di muggini poi seguiremo i confini del banco di sabbia all'andata e al ritorno per raggiungere il bel tappeto verde di alghe verdi che giace sul fondo nel fianco sinistro della baia buon divertimento un saluto alla prossima grazie a tutti 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 un saluto